Io mi farei un giretto della piscina di Fiumara Guardia, eccola qua. No, perché parto da qua? Passimo, fammi capire. Vabbè, queste sono docce, si capisce perfettamente, però non c'erano l'anno scorso. È una piccola novità che abbiamo cercato di introdurre in questa nuova stagione. Andando avanti col tempo cerchiamo sempre di rimodernare il tutto, cercare di renderlo più piacevole possibile, perché è già uno spettacolo ovviamente per la posizione, però cerchiamo di rendere anche l'utente più comodo possibile, ecco, si deve sentire a casa. Questa scaletta non c'era, mi ricordo. No, no, no. Dove ci porta? Facciamo un giro? Faccio gli onori di casa. Allora, andiamo avanti. No, siamo partiti dalla doccia e da questa scaletta per un semplice motivo, perché ci fa piacere essere in un impianto privato, però dinamico, che non si ferma, anche se è un momento storico particolare della sua storia. Sì, assolutamente. Il momento storico è abbastanza delicato, però diciamo c'è grande entusiasmo, perché per me questa piscina ha un valore affettivo importantissimo, perché è la prima volta che ci ho messo piede a sei anni per fare il corso come tanti bambini fanno adesso nella vasca piccola. Hai fatto carriera? Poi ho fatto carriera, sì, ho fatto un po' di giri, diciamo l'acqua calorata non l'ho più lasciata, e adesso ho avuto il piacere di tornare in questa piscina, diciamo, con altre vesti, per cui puoi capire il valore affettivo, anche il piacere. No, fammi capire, scusami, tu a sei anni sei entrato in questa piscina? In realtà in quella piccola, perché ancora non sapevo notare. Ah, ma ho capito, no? Ok. No, perché io prima sono entrato in quella piscina, allora se diamo uno sguardo, in questo tratto di mare, quando non c'era ancora la piscina in questione, in oggetto, c'era praticamente una sorta di piscina in mare, dove si facevano nuove, e si facevano anche le partite di pallar nuoto, e quindi l'acqua non era quella dolce che dici tu. Però questa è anche storia dello sport messinese, è anche storia di questa società. Ma infatti è anche un piacere quando vengono in piscina, diciamo, dei personaggi che hanno vissuto la piscina tanti anni fa, o anche quando non c'era la piscina, come dici tu, tantissimi anni fa, e ognuno racconta la sua storia. Ognuno che entra in questa piscina ha da raccontare che era venuto qua per la prima volta a sei anni, che nuotava dove non c'era la piscina, che facevano le partite anche in inverno a mare. Ora non ti ho detto bugie, ti ho detto la verità in pratica, no? No, 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 assolutamente, anzi. E questo è quello anche che ci rende, secondo me, un po' speciali, perché tutti hanno avuto un pezzo di storia da raccontare, un pezzo di storia di questa piscina che possono raccontare. Ed è sempre un piacere sentirle, perché tanti piccoli pezzi poi compongono l'atmosfera e la piacevolezza che c'è, spero, entrando qui e respirando questa atmosfera. Sì, intanto entriamo subito in presa di retta, qui vedo i ragazzi che stanno facendo riscaldamento o qualcuno preferisce attivazione motorica, perché, insomma, è un termine un pochettino più giusto. Che cosa succede? Cosa stanno facendo adesso? Questa è una squadra di Milano, si chiama CUS Jazz, diciamo che ormai da tre anni vengono a fare il camp qui da noi ogni estate e passano una settimana insieme a noi, ma si allenano anche molto duramente, perché facciamo due ore di allenamento al mattino e due ore la sera. Vengono sia per divertirsi che per sicuramente migliorare il loro aspetto pallanutile. Questo è anche uno degli scopi, lo sforzo degli impianti messinesi, parlo in generale, quello di fare svernare le società del nord. Diciamo che si auspicherebbe soprattutto alle nazionali, comunque ai grandi atleti, però anche i giovani sono benvenuti naturalmente. Sì, perché comunque la Sicilia e il nord Italia rappresentano sempre una meta, diciamo turistica, poi se insieme al turismo possiamo metterci anche lo sport, e soprattutto lo sport di alto livello, allora creiamo un connubio fantastico. Buonasera e benvenuti a Circus, il nostro programma settimanale che ci terrà compagnia per tutta l'estate. Qui dalla Polisportiva Messina abbiamo il piacere di avere Massimo Giacoppo, che ci ha ospitato e che ci ospiterà in questo percorso. Massimo è un rappresentante di questo centro così importante, punto di riferimento per i giovani messinesi, per l'attività sportiva che adesso lui ci spiegherà. E questo percorso, questo viaggio lo faremo assieme all'amico giornalista Giovanni Saia. Bene, grazie, buonasera anche da parte mia. E allora, iniziamo con qualche domanda. Ci vuoi raccontare da cosa nasce l'idea di abbracciare anche il progetto della Polisportiva e quindi di fare in modo di coinvolgere i giovani in questa modalità anche operativa che poi alla fine li porta a mettersi anche in discussione in prima persona. Allora, la storia della Polisportiva nasce nel 1946. Ovviamente non mi sto a raccontare gli inizi di questa società, però mi posso raccontare la mia esperienza in questa società. Ecco, io ho iniziato esattamente a sei anni, prima in questa vasca, nella vasca piccolina, dove ho imparato a nuotare in realtà. Come tanti ragazzi che tuttora vengono per imparare a nuotare, per muovere le prime bracciate. Dopo che ho iniziato il mio percorso sportivo, insomma ho fatto una carriera sportiva e adesso mi ritrovo qui, diciamo, in una veste completamente diversa che mi coinvolge appunto nella gestione delle varie attività della piscina che variano, diciamo, dal nuoto libero all'acqua gym, al TRX, ovviamente ai corsi di pallannuoto, alle lezioni individuali sia per i piccoli che per i grandi. Insomma, in questa piscina accogliamo qualsiasi età, dai tre mesi... Senti, gli interessati cosa devono fare per poter partecipare a questa attività? Quelle codificate e quelle anche non codificate, vedi il nuoto libero per esempio? Ma intanto io invito sempre le persone ad affacciarsi, perché molti passano dalla strada, vedono questo impianto e pensano che sia un circolo privato. Un lido, un lido. Sì, a volte è anche un lido, insomma, pensano che non sia accessibile al pubblico. Invece è importante che facciano questo primo affaccio, perché effettivamente quando metti i piedi qua dentro, credo... Forse anche il significato della trasmissione di questa sera è proprio questo, di far fare un affaccio attraverso il media, in questo caso la televisione, per vedere un po' di conoscere più da vicino una realtà importante di questa città, con cui ne parleremo con Massimo. Però io sulla storia, poi più tardi mi vorrei soffermare. E comunque è importante. È importante, Massimo inizia da sportivo, diventa allenatore e raggiunge anche degli obiettivi importanti. Ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso? Anche perché può essere uno stimolo pure per le generazioni, per i giovani. Sì, sì, questo sicuramente... Mi piace parlarne perché appunto deve essere... Deve essere d'esempio. Insomma, i ragazzi che vengono qua devono pensare, anche loro, di poter fare il miglior percorso possibile, spero anche migliore del mio. Io ho fatto, dai 6 anni ai 16 anni, ho fatto nuoto. Poi sono passato con discrevi risultati a livello regionale. Poi sono passato alla palla a nuoto, ho incominciato insomma un percorso abbastanza lungo. Ho fatto oltre 20 campionati in Serie A, 180 presenze in nazionale. Ho vinto l'Argento Olimpico. Quando è stato, in che anno? Nel 2012. Ah, Londra, Londra. Vabbè, Messina ha grandi tradizioni nella palla a nuoto, la bosurgi settore femminile 2004, Atene, Giacoppo, insomma, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni. Al di là del calcio, cambiamo follemente, è chiaro. Sul calcio non si discute. Io poche settimane fa ho fatto un articolo su Rete Messina, che, ecco, pubblicizziamo anche le nostre cose, è uno dei giornali online del gruppo Anse TV. Ho fatto un articolo ovviamente sulla polisportiva e l'ho titolato La terza generazione della polisportiva Messina. Hai capito ovviamente cosa voglio dire. La prima generazione si chiama Vittorio Magazzù, la seconda, che probabilmente si è conclusa qualche mese fa, si chiama Giuseppe Carmignani, che purtroppo ci ha lasciati recentemente. Siamo vicini ovviamente anche ai figli, dirigenti della società. La terza generazione io penso che passa proprio da Massimo Giacoppo. Poi magari ci sarà un riassetto societario, indubbiamente. Allora, intanto grazie per questo, diciamo, paragone che hai fatto rispetto a due grandi personaggi dello sport messinese, che sono Magazzù e Carmignani. Forse non mi sento ancora in grado di identificarmi ovviamente insieme a loro, essere paragonato a loro, ma sicuramente il nostro è più uno staff. Quindi oltre a me c'è la presenza di mio fratello, Enrico Giacoppo, Giuliano Brigandì, Riccardo Carmignani. Diciamo che rappresentiamo uno staff attraverso il quale vogliamo cercare di imitare i successi che hanno avuto i presidenti del passato. Ricordiamoci che Carmignani, oltre a gestire, Giuseppe Carmignani, oltre a gestire questo impianto, a gestire altri impianti di città, ha portato la squadra in a uno, la squadra di Messina in a uno. Tra l'altro nel periodo appunto in cui il calcio era in Serie A. E questo per noi è stato non solo come risultato agonistico, ma anche come impatto sociale. Ha avuto una valenza veramente straordinaria, perché tutti i legami che io ho adesso, che tutti i miei amici hanno adesso, sono nati da quella polisportiva. Per me ovviamente è stata anche una vetrina importante, perché poi da quella a uno io ho avuto la possibilità di andare in altre squadre, nelle squadre più forti del mondo. Per cui per me ha un valore straordinario quello che hanno fatto loro. Ma effettivamente questo valore, anche se non ci diventa poi campioni, lo vedo anche nei risultati dei miei ex compagni di squadra, che comunque si sono tutti realizzati, perché chi è diventato un grande medico, chi è un grande avvocato, diciamo che lo sport ti... Aiuta a crescere chiaramente. Assolutamente. Infatti avevo proprio questa domanda, ma come vedi lo sport? Cosa rappresenta secondo te? Cosa può rappresentare per un giovane? Beh per me... Cosa è rappresentato per te? Penso già la risposta sia abbastanza evidente. Quello è evidente, però diciamo che io mi sono assunto questa responsabilità, anche perché penso che chi gestisce le strutture sportive, le società sportive, debba seguire proprio una missione, perché in questo momento storico ancora di più, lo sport rappresenta un veicolo salvifico sotto tanti punti di vista, perché non solo toglie i ragazzi dalla strada, o toglie i ragazzi dai vari computer, social network, ma ti insegna la disciplina, ti forgia, ti insegna rispetto per l'avversario, per il compagno di squadra, per l'allenatore, tutti i valori per me che sono cresciuto, anche con appunto il compianto Carmignani, che effettivamente era un generale, perché mi ricordo quando eravamo piccoli, tutti avevamo paura, lo temevamo. Confermo. Appunto, penso che tutti. Quindi, rivolgendoci alle famiglie, possiamo dire lo sport, che consente quell'equilibrio socio-psicofisico, quindi anche per la salute, può rappresentare un'occasione? Assolutamente, assolutamente. Ci sono anche tantissimi studi che dimostrano che effettivamente un euro investito nello sport, per far risparmiare probabilmente venti nella salute. Quindi ci rivolgiamo ai genitori e alle famiglie, per avvicinarli anche a questo contesto, a visitare anche la sede, che è bellissima, qui sul mare, fronte stretto, e quindi c'è la possibilità anche di godere della bellezza del luogo. Io, Massimo, avevo un attimo una domanda, nel senso che mi piacerebbe che tornassimo da questo escluso storico alla concretizzazione, l'operatività. Quindi, com'è articolata la polisportiva? Quali sono i corsi? I ragazzi vengono qui e cosa fanno? Allora, i ragazzi intanto vengono, possono iniziare semplicemente da un corso di nuoto, quindi possono intanto imparare a nuotare. Io arrivo a non solo nuotare, per cui imparo a nuotare. A qualsiasi età, devo dire che mi odierà mia madre perché dico questo, mia madre ha imparato a nuotare l'anno scorso, quindi... Giovanni, c'è sempre speranza? Io so nuotare, grazie a te. Io frequentavo la polisportiva, intanto come atletica, e quindi poi ti devo fare una domanda, però ho frequentato pure chiaramente la piscina, e dicevo poco fa, qui non c'era la piscina, ma c'era una piscina a mare, dove si faceva il nuoto e la pallanuoto, chiaramente stiamo parlando prima dell'82, perché questa è una piscina che è stata inaugurata nel 1982. A proposito... Ma stava raccontando proprio questo, quali sono le attività. Sì, le attività poi sono una domanda molto importante. Quindi dal nuoto base, per cui c'è speranza anche per noi. Il nuoto è base per tutte le età, quindi dai tre mesi d'età fino a... appunto mia madre ha imparato a nuotare a 65 anni. Poi si può fare anche come divertimento e attività fisica, aggregazione, acqua fitness, TRX, ovviamente i corsi di pallanuoto. Dimentico qualcosa? Direi di no. Io direi che prima si parte dall'attività motoria di base, il divertimento di fare la nuotata, senza il problema del tempo, del numero di vasche, eccetera. Poi chiaramente nel tempo e col tempo e con la giusta presenza tecnica, che mi deve ovviamente stimolare, posso anche passare al settore agonistico, allora lì siamo in tante strade. Tu hai fatto le Olimpiadi, io ho fatto le Universiadi, chiaramente non come atleta, e ricordo le frasi del professore Giovanni Bonanno, che sicuramente conoscerai, che è stato lo storico presidente del Cori. E quando ci riunivamo per tante cose, lui sottolineava il fatto che è difficile costruire impianti sportivi, anche perché ci vuole un impegno economico, ma è altrettanto difficile, se non addirittura superiore, gestirli. Questo è un impianto, e io metterei in risalto questa cosa, che esiste dall'82, che va avanti e lo stiamo vedendo oggi, ma soprattutto è un impianto di proprietà, perché qui potremmo aprire un convegno. Io guardo certe volte Londra, l'Inghilterra, parliamo di calcio, a Londra c'è Wembley, 90.000 posti, Tigenham, 80.000, Rugby, Chelsea, Tottenham, West Ham, tutte squadre che hanno il loro impianto di proprietà. Arriviamo in Italia, se l'Inter e il Milano vogliono un impianto nuovo, dobbiamo sacrificare San Siro. Dice che c'entra? No, il problema è l'impiantistica. Io direi che una società, come la Polisportiva Messina, che ha un impianto di proprietà, può essere fiera, anche se naturalmente, ovviamente ci sono, non dico difficoltà, ma comunque bisogna gestire un impianto e portarlo avanti. Anche questa è l'eredità di Magazzone di Carmignani? Assolutamente, questa la ritengo una grande fortuna, prima di tutto, averlo vissuto da utente, diciamo, da atleta, questo impianto, e adesso appunto viverlo da gestore, per così dire. È assolutamente una fortuna immensa, perché è un impianto bellissimo, è sulla spiaggia ed è di proprietà, nonostante adesso, come sapete, ci sono tante difficoltà con le concessioni dei Magnali, ma insomma, che speriamo di superare col tempo, però è assolutamente una rarità e so quante difficoltà ci sono in tutta Italia, a Messina, in Sicilia, in tutta Italia e anche nel mondo, ad avere impianti fruibili, insomma, per qualsiasi tipo di attività. Una scelta del genere è comunque una sfida, perché vivere di sport spesso è veramente difficile, quindi volendo fare una sintesi, le attività consentono di vivere una sorta di benessere, di socializzare, quindi fa bene la salute, fa bene i rapporti con gli altri, e alla fine stai all'aria aperta, per cui assolutamente viene, come dire, proprio condivisa questa scelta, che tra l'altro hai fatto tutto nella tua vita, ma io ho una domanda da fare adesso al massimo, Massimo Giacoppo, allenatore, futuro presidente, non sappiamo, insomma nel futuro diciamo poi quello che tu scegliere nella tua vita, ma come ti vedi domani rispetto all'attività sportiva? Cioè ne farai proprio un motivo, un light motive della tua vita? Cercherai di trasmetterlo costantemente alle giovani generazioni? Oppure eventualmente poi, non so, dico, dici tu, come ti vedi? Ecco, qual è la tua ottica? Grazie per la domanda, perché è una domanda alla quale tengo effettivamente, cioè un concetto al quale tengo perché, prospettive in questo senso, come cercavo di dire prima, è appunto una missione, quella di fare sport, sappiamo quali sono le difficoltà, soprattutto di gestire una piscina, che non è un semplice campo, è una piscina a tante difficoltà in più. Il costo dell'acqua, non dico altro. Il cloro, l'acqua, insomma, i motori, ci sono tante difficoltà rispetto a un semplice campo, adesso non voglio sminimire chi gestisce altre strutture sportive, però sappiamo le difficoltà che comprende gestire una piscina. Mi risulta, scusami, che la piscina più importante di Messina, quella dei Cappuccini, sede dell'Università di Miscina Olimpica, eccetera, è ferma. Si parla di interventi, come si parla di interventi allo Stato Celeste, però è ferma. C'è poco da fare, ed è comunale. E quindi Massimo, allora cosa farà? Quale sarà il contributo in questa città? È assolutamente una missione. Anche per i talenti, per trovare dei giovani talenti, per fare molto. Devo dire che ho anche la fortuna di aver avuto questi punti di riferimento, in primis il Presidente Carmignani, e quindi cercherò di emularlo, cercherò di creare un ambiente sano come lo era allora, un ambiente virtuoso, perché lo sport deve assolutamente essere un ambiente virtuoso. Hai detto, scusa, ripeti che devi fare, non lo capito? Devo emulare. Però per emularlo devi cambiare carattere per banco, cioè un pochettino più tossicello, più duro. Viene a vederci in attività e poi mi dirai. Allora, scateniamo le nostre telecamere, per vedere poi l'attività che si fa naturalmente all'interno della polisportiva, e così vedremo l'altra faccia di Massimo, che non è quella dell'intervista, perfetto. Assolutamente sì, lo sport trasforma anche. Sì, c'è un coinvolgimento emotivo molto importante allo sport. Facciamo un gioco, scusate. Facciamo finta che sei l'allenatore della squadra di Messina, di pallannuoto, in Serie A. Ecco, in questo momento c'è la partita in corso e tu devi dare, diciamo così, dei consigli ai tuoi ragazzi. Ok. Questo non te lo posso riprodurre adesso. Traduci in termini un pochettino più televisivi. Ti spiego semplicemente perché? Perché la maggior parte della comunicazione è non verbale ed è emotiva. Quindi se io adesso non provo quell'emozione non te la posso trasmettere. Quella verbale, per esempio, tu che fai? Mettiti là, fai così. Intanto, vabbè, noi seguiamo come struttura, come società, cerchiamo di attenerci a un atteggiamento, come dicevo prima, anche virtuoso e nei limiti del possibile educato. Per cui cerchiamo sempre di non... Quando c'è l'emozione del momento, diciamolo. Chiaro. Chiaro. Ti ricordo che io sono anche un giocatore e quindi so bene quali sono... Quante volte da giocatore... Assolutamente. Da giocatore hai anche le pulsazioni a 200, per cui non è facile, non puoi gestire le emozioni allo stesso modo. Per questo, chi è fuori dall'acqua, ha il compito di gestirle. E le deve gestire per se stesso e per chi è in acqua. Perché quelli in acqua sono... Appunto, con le pulsazioni a 200, magari hanno un omone da 100 kg addosso che li sta marcando, che lo vuole annegare, tra virgolette. Per cui è assolutamente importante. L'aspetto emotivo è la forza motrice di ogni tipo di sport. Noi siamo qua sicuramente per passione. Tutto quello che abbiamo fatto, al di là del risultato agonistico, io l'ho fatto per passione perché amavo stare in piscina. Io mi ricordo che passavo veramente le giornate intera in piscina. Ma per avere certi risultati mi pare che non c'è alternativa. In realtà io facevo due ore di allenamento. Spesso ci allenavamo dall'1. Quante volte si deve allenare, quindi uno sportivo che lo fa in maniera agonistica? Questo piccolo esempio è abbastanza emblematico. Io mi allenavo dall'1 alle 3. Ogni giorno? Sì, quando ero piccolo, diciamo, dall'1 alle 3. E poi la sera dalle 8 alle 20. Scusami, dalle 8 alle 10. È capitato un po' di volte che mi vedessi spuntare i miei genitori in piscina perché io in quella pausa, dalle 3 alle 8, ero rimasto in acqua. Però ero rimasto in acqua non ad allenarmi, ero rimasto in acqua a giocare, a tirare in porta con i compagni. Per cui l'aspetto ludico è sempre fondamentale. È quella la vera passione. E perdonami, a proposito di pallannuoto. Viene vista, tra virgolette, un po' come un'attività con una propensione al maschile. Le ragazze la scelgono, questa attività? Sì, effettivamente è un'attività scelta anche dalle ragazze, anche se è uno sport, adesso non voglio essere discrimente. No, assolutamente, stiamo facendo anche un... C'è un salto con l'asta femminile, il lancio del martello femminile, c'è un movimento femminile che ci scolta, il calcio femminile, e quindi le politiche di genere anche nell'ambito dello sport. Quindi va bene la parità. Ma allora naturalmente da giocatore, anche da allenatore, io chiedo al Massimo proprio perché magari ci può dare qualche input in più, per comprendere se effettivamente anche le ragazze possono svolgere questa attività a piena e raggiungere obiettivi o essere virgolette al maschile, come la vedi? Assolutamente, come dicevamo prima, Silvia Bosurgi è un esempio di aver portato questo sport al massimo perché lei le Olimpiadi l'ha fatta, ha vinto una medaglia e ha vinto quella più importante. Atene 2004. Assolutamente, ha vinto una medaglia d'oro. Quindi abbiamo un esempio Prati. Abbiamo un esempio in casa, anche un esempio molto virtuoso, che appunto spero che possa essere emulato da tante altre ragazze. Ovviamente quella piscina è aperta a tutti, ci mancherebbe. Però tu registri che c'è una minore adesione. Sì, chiaramente, ma io penso per la tipologia di sport attira più uomini. Però devo dire la verità, io tanti anni fa, proprio a Messina, alla piscina Cappuccini, spicherai un torneo internazionale giovanile di pallanuoto femminile. Diciamo che le ragazze fisicamente, erano giovanissime ovviamente, e tanti anni fa, penso secolo scorso, dovrebbe essere... Sì, penso... C'era anch'io. Ti ricordi che ci fu un torneo internazionale alla piscina Cappuccini? È stato sì, dopo l'università del Mondiale del 99. Mi colpiva l'arbitro che a un certo punto diceva no goal, no goal. Praticamente c'era anche lì il problema, c'era goal o non goal, non c'era il VAR, non c'era la televisione, però c'era l'arbitro fiscale, no goal. Ti ricordi questo passaggio? Probabilmente sei la stessa... Ero già avevo 16 anni, ero addetto allo smissamento degli spogliatori. Non ti ho visto, devo dire la verità. Però stavo dicendo questo, a proposito di uomo, donna, eccetera, mi colpì il fatto che comunque le ragazze non avevano il fisico della nuotatrice. Avevano un fisico un po' più, diciamo, robusto. Sostenuto? Eh sì, perché comunque è molto muscolare l'attività che fanno, che non è solo tenere la palla, passarla, segnare o stare a galla, ma è difendersi dall'omone di centrile che ti vuole buttare giù. Viene visto come effettivamente con una predominanza maschile. Io direi semplicemente questo, Giovanni, che cosa ne pensi? A questo punto non ci sono limiti di età, non ci sono problemi sul genere. Uomini e donne ci possiamo iscrivere, possiamo iniziare il nostro percorso? Infatti io ti stavo chiedendo proprio questo. A questo punto, perché lei è sedentaria, diciamola, dice sì, direi, farei, me ne vado a piedi al lavoro, ama lo sport quello degli altri, è come quelli che dicevamo lavorare, vedere gli altri che lavorano, ecco lei ama lo sport. Però Massimo, questa è un'occasione per iniziare, quindi quale è il migliore? Sì, sì, ma dopo due giorni se ne va. È più una promessa. È una promessa, a questo punto sì. Direi che è una promessa. Regalerà un mensile, tranquillo. Tu falli il contratto per sei mesi, tanto poi se il giorno non ci vede più. Noi lo ringraziamo, allora è il nostro amico Massimo, e ci ripromettiamo di iniziare un percorso e di continuare questo cammino. Vi aspetto, grazie a voi. No, allora io ringrazio Massimo, ringrazio tutta la polisportiva che ospita Circus, questa trasmissione di Anze TV, con questa cadenza, diciamo così, settimanale. Io non so come salutare perché, vabbè, sarebbe buon pomeriggio. Facciamo un saluto classico. Sì, ma il problema è che magari ci vedono alle tre di notte, alle dieci del mattino. Allora, qualcuno dice buon. Buon. Buon tutto? Non basta che è una cosa positiva. Io direi buon pomeriggio, visto che la stiamo registrando di pomeriggio, poi la visione, chiaramente, sarà quella che ognuno vorrà fare. Ovviamente la prossima puntata non avremo Massimo, ma avremo altri ospiti. Con questo, ecco, questa sorta di disimpegno, ecco, non vogliamo fare, come dire, il tribunale a nessuno. Ecco, se viene un politico, magari non parliamo di politica. A proposito, che musica ascolti? Ah, bella domanda. 30 secondi perché stanno in chiusura. La chiusura non basta. No, no, io ascolto, diciamo, da rock anni 60, la musica elettronica, mi piace variare tanto. Io lo farei subito, presidente della Polisportiva. Mi chiamo che ascoltano questa musica. Non c'è niente a fare. Bene. Grazie. Allora, grazie a tutti. Ultima battuta per Jenny, ho 30 secondi. Mi vuoi fare una domanda, Giovanni? Io sono felicissimo di condurre questa trasmissione con te, ma al di là dell'amicizia di tutto il resto, Jenny è un personaggio anomalo, un personaggio particolare. Ora, diventa rossa, ma non me ne frega niente. Perché? Perché negli ultimi tempi ha presentato parecchie cose nella nostra città, i cosiddetti eventi, che può essere il libro nuovo, che può essere un convegno, eccetera. Però ha una particolarità, che lei non viene né dalla radio né dalla televisione, perché normalmente siamo tutti o radiofonici o televisivi. Ora c'è... Si stanno interrogando da Palemondo Provengo. Non lo so. Ora c'è l'esame. Eccolo qua. Iniziamo questo percorso con la televisione. Bene, buona visione. Grazie. Grazie.